buongiorno gloria come stai gloria tutto a posto peli matti no come l'hai chiamata a proposito di privacy e di questa nascita ce l'abbia io però no no e di questa nascita che ne vogliamo dire allora basta basta ma abbiamo l'abbiamo fatta 10 l'abbiamo fatta secondo te sarà un bravo papà così ho rifinito un'altra foglio sì perché lo ripulito spesso per carità ci ho lavorato molto più rispetto a come ci lavorava una volta perché nella segnalo mra ma l'ora di massaggio sembra giusto gloria che questa faccia qui così che loro un tappo tra moglie e marito non mette del video voleva di quella cosa lì si mi ha iniziato a chiedere da ieri sera poi a un certo punto mi ha mandato un messaggino da giù ma io me ne ero accorto l'ho visto dopo quando ho ripreso il telefono allora ci vede a fare il massaggio che poi è quello che gli va anche bene che l'hai anche già pagato hai capito vabbè non è che cambia l'avete anche detto che cambia fa lei sì adesso non ci penso non dava bene a me che l'hai già pagato andavo lì e andavo via quanti siamo padre l'as può salutare aspettavo la fine della gamba è praticamente finita ciao